Fermati e ascolta la sua parola. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo con grande gioia il Vangelo di oggi che è Luca 10, 38, 42. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse, Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose, Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti. Per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Amen. Carissimi, questo è il famoso brano dove Gesù entra in casa da queste due sorelle, Marta e Maria, e di fronte a sé vede due atteggiamenti differenti. Maria, che si siede, si mette ai suoi piedi e lo ascolta finché parla, Marta, invece, che è indaffarata, prepara, serve, non si sa bene che cosa fa di preciso, se sta facendo il pranzo per Gesù o facendo le pulizie, in ogni caso non lo sta ascoltando perché è indaffarata. Ebbene, quante volte abbiamo dato una lettura superficiale di questo brano e dei due atteggiamenti, vedendo in Maria la donna che prega, in Marta la donna che lavora. E quindi a volte diciamo, sì è vero, c'è bisogno di pregare, ma anche di lavorare, perché se tutti pregano, chi è che lavora? In realtà l'Evangelista Luca non ci vuole dire questo, ma ci vuole indicare l'atteggiamento che noi dobbiamo avere nei confronti di Gesù nella nostra preghiera. Questo è importante. Quindi non sono due cose staccate. Come tu ti metti di fronte a Gesù quotidianamente ogni giorno? In quale posizione? Sei come Maria, seduta ai piedi del Signore, che ascolti la Sua parola? Oppure preghi in fretta, devi andare a lavoro, c'è un impegno, c'è un'altra cosa da fare, devi prepararti, non riesci, Signore tu lo sai, io vorrei pregarti di più, ma non ce la faccio. Qual è il tuo atteggiamento? Questo è davvero importante. Gesù dice, di una cosa sola c'è bisogno. Questa parte l'ha scelta Maria e non le sarà tolta. Cosa ha fatto Maria? Si è seduta ai piedi del Signore. Primo gesto, sedersi, fermarsi ai piedi di Gesù. Secondo gesto, ascoltare la Sua parola. Come va la tua preghiera quotidianamente? Perché non parliamo una volta alla settimana, una volta al mese, una volta all'anno. La preghiera è una relazione con Dio. Non è un rito, non è una formula matematica. La preghiera è un atto personale. Da parte tua, verso Dio, un atto di fiducia, un atto di ascolto, un atto di ringraziamento, un atto di supplica. Come ha fatto Maria. Non stiamo parlando di chi non prega o non crede in Dio, ma di noi. Molto spesso le nostre preghiere si riducono a recite, ma soprattutto distrazioni, atteggiamenti di affanno, in cui non lasciamo lo spazio per ascoltare quello che Dio vuole dirci. Questo è il più grande nostro problema. Ecco perché spesso preghiera uguale noia. Spesso per noi cristiani è entrata un po' questo modo di dire, di parlare, di sentire. Ah, non ho voglia di pregare, che lo facciano altri. Perché siamo stati abituati o facciamo delle preghiere in cui noi non ascoltiamo Dio, ma siamo noi che parliamo a Lui e forse finché parliamo siamo anche distratti, presi da tante situazioni, come Marta. Gesù oggi ci dice, ogni giorno, dal mattino, fermati, siediti ai miei piedi, ascolta la mia parola. Questa parte non ti verrà mai tolta. Questo è il segreto della fede, cari amici. Perché se noi non ascoltiamo il Maestro, noi non so chi stiamo seguendo. Le nostre idee, una religione, una teologia, ma io, che sono cristiano, seguo Cristo, ascolto la Sua parola, mangio le Sue parole, mi metto ai Suoi piedi e le dico, tu sei il mio Maestro, tu sei il mio rabbì, Gesù, e io sono il tuo discepolo. Tu non sei un'entità soprannaturale, sconosciuta, o che solo qualcuno può conoscere. Tu sei il mio amico, il mio Salvatore. Io voglio stare ogni giorno ai tuoi piedi, ascoltarti, imparare da te, fratelli e sorelle, quanto c'è bisogno di imparare a pregare. Noi vogliamo insegnarlo. Come comunità abbiamo davvero imparato dalla Chiesa. Ormai sono duemila anni che ci ha insegnato a leggere la parola di Dio. nelle celebrazioni, nella liturgia delle ore e nella preghiera personale. Ecco perché noi il corso che faremo a Torino, a Strona, in ottobre e novembre, lo proporremo anche come seminario sulla preghiera personale online, in quattro serate, a partire da venerdì 27 ottobre, per insegnare come il popolo di Israele pregava, ascoltava, per insegnare come Gesù ha pregato, come le prime chiese, le prime comunità cristiane si radunavano e pregavano insieme e come noi oggi prendiamo di nuovo in mano la sua parola, ascoltiamo le parole di Gesù e camminiamo con questa relazione. È fondamentale, carissimi. Allora invochiamo lo Spirito Santo e gli diciamo Vieni, oh Spirito, entra nel mio cuore, entra nella mia vita, perché io faccio un'esperienza forte di Dio, perché io sperimenti che Lui è la mia pace e perché io metta da parte le preoccupazioni, gli affanni della vita, le mie crisi, le mie difficoltà, le malattie, tutto ciò che mi opprime e che mi allontana dalla preghiera, dalla relazione personale con Gesù, vieni Spirito Santo, Spirito di luce, Spirito di discernimento, ti invoco nella mia vita perché io possa camminare fedelmente alla sua parola e ascoltarlo, sedendomi ogni giorno ai piedi suoi. A te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco allora lo slogan di oggi, fermati e ascolta la sua parola. Abbiamo bisogno di fermarci quotidianamente, interrompere tutto, ascoltare Gesù che ci parla e andare nel mondo per portare la pienezza della sua gioia. Se avete piacere di seguire questi insegnamenti durante il seminario Preghiera Personale Online vi potete già iscrivere nel nostro sito. Grazie per avermi accolto, buona giornata, a domani, ciao! Carissimi, vi invitiamo al seminario online sulla preghiera personale dove vi insegneremo come pregare con la Bibbia, come ascoltare la parola di Dio, come metterla in pratica e portare grande frutto. Da venerdì 27 ottobre per quattro settimane. Iscrivetevi sul nostro sito. Parla, Signore, perché il tuo servo ascolta, parla a me, Signore, ti ascolto. Parla, Signore, perché il tuo servo ascolta, parla a me, Signore, e signore.